Bollo auto in Sicilia. Si potranno evitare le sanzioni per i mancati pagamenti seguendo le modalità per regolarizzarli. Si tratta dei pagamenti del bollo auto in scadenza tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021, che non sono stati effettuati. Con la legge regionale 16 del 2022, che si applica agli omessi o insufficienti versamenti della tassa automobilistica regionale, la regolarizzazione deve avvenire entro il 30 novembre 2022. Proprio il decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle finanze del decreto definisce le modalità e la regolarizzazione agevolata che riguarda persone fisiche e giuridiche e fa riferimento ai mancati pagamenti già iscritti a ruolo per gli anni che vanno dal 2016 al 2019 e gli anni 2020-2021 non ancora regolarizzati con i canali di riscossione ordinaria. Sono esclusi i periodi di imposta al 31 dicembre 2021, i rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato e quei ruoli per i quali, prima dell'entrata in vigore della legge, erano già state avviate le procedure esecutive come pignoramenti, incanti e interventi nelle procedure esecutive immobiliari per le tasse automobilistiche. La regione siciliana prevede lo sgravio delle procedure esecutive che non siano state avviate alla data in entrata in vigore della norma. Per aderire alla regolarizzazione agevolata il pagamento si dovrà effettuare nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto autorizzate.